Tra il 2010 e il 2013 non aveva presentato la denuncia dei redditi. La Guardia di Finanza di Omegna ha scoperto e denunciato un evasore totale. Si tratta di un'azienda con sede a Baveno che opera nel settore dell'edilizia con cantieri sparsi nel nord Italia. Secondo quanto ricostruito dalle fiamme gialle, la cifra dei ricavi nascosti al fisco ammonterebbe a 7 milioni 700 mila euro, con IVA e IRAP non versate rispettivamente per 780 mila euro e per 300 mila euro. Dalle banche dati e dai conti correnti risultavano infatti notevoli flussi finanziari transitati nelle casse dell'impresa, sulla base dei quali i finanzieri sono quindi risaliti ai reali volumi d'affari. Il titolare dell'azienda è stato in seguito denunciato alla Procura della Repubblica. Un altro colpo significativo messo a segno dalla Guardia di Finanza nella lotta all'evasione fiscale. Numerosi gli evasori totali, ovvero completamente sconosciuti al fisco, scoperti negli ultimi mesi. Grazie mille.